salve a tutti amici artisti oggi giocheremo con super smash bros altemi ma non partiamoci in chiacchiere partiamo con il gameplay ok questo qua allora mari sei scelto snake io little mac quindi partiamo è un buon giorno allora prima che muoio ricordati un attimo come si gioca io sono little mac e mare snake però aspetta cazzo ti ricordi come stanno i pugni così pronto yes si però ti sto bazzucando il culo oh cazzo mi hai lanciato una mica prendi quell'oggetto si prende con questo questo è ora è troppo tardi ora allora quella cosone quell'oggetto di vetro ci contiene un personaggio dentro che ti può aiutare e tu si prende con questo quindi con x perché stiamo giocando con i gioi con così si prende con x e lo lanci in aria si perde così e si perde così ok ok fine qua tutto diverso mettiamo in una casuale scegli sempre il personaggio se cari ok scegli il personaggio io per non mettermi sempre i messi ok vai clicca su x e puoi scelti la variante clicca sul personaggio x e muovi e poi clicchi sempre x quando dire ok tutto pronto c'è invece lì c'è proprio un finocchio dopo metto un giro rosa c'è proprio un finocchietto cazzo di usare questi oggetti vedi vedi sennò mi è piaciuto quel cazzo amareggiato è perché pensavo che ti stavo smazzando vabbè ora mi metto finocchietto luigi però capita che a volte dipende da chi vince si può esce un personaggio e tu lo devi uccidere però chi ha vinto lo c'è proprio eccolo qua è uno di gran classe vedi che se lo vuoi di un colore diverso vediamo che ci sono disponibili faccio così 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 tutto pronto beh allora siamo a tre più fortunati grazie a iphone che ci conta i minuti eh siamo a tre minuti quindi è già 15 minuti guarda com'è guarda com'è finire la voce di luigi ehi nando che ti mettevo non faccio la farmi ma sei sicuro che la sto metto come prendi quello prendi quello scagialo contro di me scagialo contro di me ma non è come il cazzo si prende del primio gridlo con X e lo hai fatto scomparire Antonella Sì, questi due, ma prendere i pugni come abbiamo fatto io. Ecco, l'effettivamente c'è qua. Vedi questi oggetti, prenditi. Ma caggiavi. Allora sei morto. Eh, me lo so cosa. Facciamo passare allora per darti una chance in più. ora cambiamo il set di regole e mettiamo... guarda come è venire ma va a cagare ora cambiamo il set di regole e mettiamo tre vite ecco guarda, vedi questo è quello che ti dicevo io ora devo uscire questo questo mi sembra uno di Street Fighter, lo sai? quello là con i capelli biondi eh infatti è lui, è Ken eh infatti sono lì voglio, la grande guarda pillola a me anzi supposta però c'è un cazzo di cappello rosa veramente è un progetto modalità progetto sì però non posso falire in video, dai porca troia, se falisco in video mi pento ah ma a me mi faccio 156 ore però sì però io ci gioco più di te è un fallimento se perdo se hai sentito meno una cosa ecco sono morte no ho vinto, ho vinto, ho vinto vedi, vedi che non la posso... ora metti tu Ryu e io... ah guarda ma che già metti? lo cambiamo, lo mettiamo guarda è vite tre, tempo due minuti e trenta casuale sempre ok allora io ora mi metto ma io mi metto uno scarsissimo vai eh vabbè eh metto uno scarsissimo il più finocchio e metto uno che non so usare vabbè allora vediamo un po' ecco qua vai e clicca e lo vuoi usare la variante o Sam si chiama Sam 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 Wolf contro Sam è una B sei sinistro è Sam due uno via via pronto perdi perdi boom porca miseria però te la hai già suonato come minimo te la hai già suonato come minimo lancio un razzo così a piacere quanto vince quanto vince quanto perdi poi Jimmy su qui è no no vabbè ho vinto tempo è scaduto dai dobbiamo fare qualche cosa di clickbait dove mi batti è una parola non si può dare una cincione vai clicca x clicca io ok vai mettiamo bo uno abbastanza facile mi rimbredi con tanto di pigiama tutti e due no no cazzo è naturo vabbè dai ho un pigiama vai scegli il personaggio stavolta io mi metto Sidama Sidama mettiti Bowser ok ci sta Wario no no xx wario grega xx il mio non si può cambiare infatti si può cambiare direttamente per scuola questo qua è proprio mario wario il cinese è proprio wariano un muario, un muario un muario mi sembra che stavo davanti qui mi sento perchè vede il cazzuto cazzuto è intanto il cazzuto mi aveva abbassito lì devi usare quel no 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 mi raccomando una regia replay questa volta me la sento mi sento meglio e che poi la regia siamo noi cioè siamo così poveri che non siamo neanche una regia no no ma devi saltare ma che cazzo ma è rimazzata non mi potessero mangiare praticamente io eh no perchè sennò diventa poco family friend oh no lei mi fai pena ah no c'è morto che peccato eh mi dicevo questo sembro io cazzo no è solita ma questo dai però questo qua è proprio infame un bastardo e che qua perchè è personaggio scarso mi hai detto gli ice climbers che fanno cacare se perdi contro di loro io non lo so io non lo so io io l'ho visto io anche hai detto la stessa cosa di qua io sei morto mettiti cazzo se mi perdi contro di questo oh ah si può fare ti ehm se mi perdi contro di questo ma no mi sta cincendo no ma perché le prove magari sembravano cazzutissime invece che si casa tutto scazzone oh dai invergognati sei morto contro di loro ma chi sono su di loro? io sono i personaggi più inutili che possono esistere è una d'accordo prendendo sul piano lo sui lo stai prendendo nel chiuulo ma caruta salta eh mi piace guarda allora prendi questo aspetta no rame è troppo tardi è troppo tardi ti sei fottuto mi sta accorto ma tu lanci oggetti come se ne fosse cazzo eh ma ci vuole un'abilità eh mi sta accorto un'antonella non lo so io no cazzo mi sono ucciso olì almeno una volta vuoi dire di avermi ucciso o di esserti ucciso non ne sto capendo più un cazzo ma che cosa sta succedendo? è uno no 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 mo ce l'ha già fatto fottiti un a uno un a uno un a uno stiamo ora chi muore per te perchè stiamo un a uno ti prende? eh ma dove butti in terra? tutto 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 io non capisco prendi vabbè ma sta tutto nel gioco no? sì sì sti cazzo tanto che che si mette ad editare Mariano no? ma che stava c'è? mi hai stuprato mi hai stuprato sei morto sono morto olè finalmente sei contento che hai morto? scusa ma qua tolci eh ma si si continua ancora? eh sti cazzo tanto si taglia quando arriviamo? boh allora lega di po lega lega la boh non lo so mettiamo uno questo questa è enorme sta mappa ma mettiti Bowser ascoltami ok sta qua sta qua vedi dove sto io? Bowser eccolo qua e ora io per la gioia per la gioia di un nostro fan si metto king de dede king de do do eh de do do te lo ha detto Pатьte di Bowser ma l'ho visto lui eh 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 mette lui è un pinguino assi è di Kirby dias ma che cazzo, dove va via la mia ragazzo sto ma tu Antone stai la hai una gioia c'è cominciato con chi cazzo no no devo sfiamare vai di là mi fa ridere prendi quello non metterle le dita da niente alzati prendi quello x bravo qua ci ti da una mano ah ecco il cazzo cazzo fiammata che cazzo ha detto kate sono morto io sei morto io cazzo 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 ok allora mettiamo una ma... questo che... questo devo sempre ucciderlo io no almeno grazie a sto video sto facendo un po' di personaggi ciro cromo come si chiama? cromo cromo into ten Eco e qua non muore cazzo ciclo lo cents Devo trovarti una cosa piatta proprio in modo che riesci a giocare senza saltare Dai questo cano l'ho mai usato quindi se perdi addirittura contro sto cane bastardo io mi ammazzo è un cazzo di cane simon 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 comunque se perdi contro sto cane io io non so che ti salta ebra dai e ti giuro che è la prima volta che io so sto cane l'abbiamo gioco e vuoi mettere la differenza ma i comandi sono uguali per tutti e va bene oh mio dio ti ho sparato mi fino a incerto lì salta 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 io continuo a spararti no 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 che cazzo ho fatto grande evviva l'annatra amori cane di merda ma io sto qua non morì vai giù vai giù sei sicuro a morì muori vai giù mi sto dicendo a morì sono solo in scelta a morì non mi si è morto però mannaggia c'è come è possibile che ho 103 ecco ti ho ucciso? eh cazzo! che cazzo è successo? mi ha sbagliato un tasto! hai messo pausa? ho fatto questo! si è vero si chiude a prossimo! ma facciamo V con V con V! poi si taglia! si si! se si taglia esce il rumo e cico! comunque secondo me se lo facciamo in live era meglio! nessuno ci cagava però! Cornelia! ma questo è bello sull'aereo! si si! si si! stava all'ottolo! metà night è un buono vai! metà? no! sempre di qui che è accompagnato! ah! facciamo palla contro palla! hai due cogliere! ora ti aspiro! ah già questo è quello che aspira! oh! ora sono te praticamente! praticamente mi stiamo chiamando! ma non lo sai che sotto lo distruggerò! mi chiedevi che distrutti! ok! ne parliamo fra 5 minuti! io io io! io io io! io io! io io! cazzo! no no no! eh no no no! vieni a capito! insupposto! ok! vieni tu dammi ora! prenditi quella mazza vai! ti sto dando pure una mano! afferra la mazza! Ia prendilo, ora sbasto Fa, 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 andrò a cuore, ti smazzo lo stesso Ma che ti entro, che ti entro in una valigia Stai volando Meno male Vola Ma se ti uccide un Pokémon passero Oh mio Dio No, no, 3 a 2 Eh, porco Giulia Eh, ok, ora te lo vai Ti ho ammazzato Mena gioia Quando diventava l'igeniente Eh, no, perché è una petra No, no, non lo so, non prendere E' cinese Guarda, vuoi vedere? Ok Vai, il coltino Ok, ora No, no, mi serve Mi serve, mi serve No, 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 hai preso quello sbagliato Eh Ma non me lo fai tutto lo stesso No, non hai preso quello sbagliato E' quello brutto per me Ok, ok, lo riesco così Ok, lo riesco così Mo di valigia Cazzo Ok, no, sono Muur Vieni qua a morire No Ma ora dobbiamo fare A scontro decisivo Ah, ok E ora mori, guarda No Che, perché? Che cazzo è successo? Perché tenivi 300 di vita Cioè, quindi Madre o Dio santo Santo Dio del cielo Ixi Mannaggia Giudo Cristo Quindi Spero che questo video vi sia piaciuto Durerà 5 minuti Direi che dura 24 Ma dai, lo tuvi di praticamente Quindi Ci vediamo A quando smazzerò Daniele Al prossimo video